Non chiedetemi perché ho porto il cappello, non ho perso i capelli, sono solamente disastrati come ci si poteva aspettare. Sigla. Quasi il 90% delle vie italiane presentano nomi maschili. Il tracciato originario della strada statale 106 Ionica iniziava nel centro di Reggio Calabria. L'autostrada 27 è la prima autostrada italiana a tre corsie per senso di marcia fin dalla sua prima apertura. Il grande raccordo anulare di Roma è stato citato da Max Pezzali nella sua canzone Chiuso in una scatola. Nonostante il grande raccordo anulare sia stato classificato come A90, quest'ultima denominazione non è mai stata usata nella segnaletica stradale. La tangenziale di Napoli è l'unica tangenziale italiana con pedaggio ad ogni svincolo. In origine la diramazione A4-A5 si chiamava A18, numerazione poi assegnata all'autostrada Messina-Catania. L'autostrada 6 è l'unica autostrada italiana a presentare un tracciato elicoidale. Sull'autostrada 30 il biodotto Sarno è stato inizialmente aperto a carreggiata unica. Tra Caserta e Nola è prevista la costruzione del nuovo svincolo di Mardaloni. Fino al 2017 il tratto di A14 tra Foggia e Cirignola Est, lungo 35 km, era il più lungo tratto autostradale italiano privo di svincoli. In origine l'autostrada A16 era numerata come A17, numerazione poi rimossa per motivi scaramantici. Precedentemente la numerazione A16 era stata assegnata all'autostrada Roma Civitavecchia, oggi A12. All'epoca della costruzione dell'A16, Avellino era la più piccola città italiana dotata di due caselle autostradali. In origine il casello di Nola si trovava sull'autostrada A16, spostato poi sulla 30 per essere più vicino alla zona industriale. Nel 2005 un biodotto dell'autostrada A16 al km 122 venne danneggiato a seguito di intense precipitazioni. A causa delle difficoltà di ripristino, oggi si circola su una variante in doppia curva. Il cavalcavia A68 dell'autostrada 21, nei pressi di Tortona, è tristemente noto per un fatto di cronaca avvenuto il 27 dicembre 1996. I fratelli Paolo, Sandro, Franco e Gabriele Furlan, il cugino Paolo Bertocco con la fidanzata Loredana Bezzaro e Roberto Siringo si divertivano a lanciare sassi sui veicoli in transito nella carreggiata sottostante. Uno di questi sassi colpì mortalmente Maria Letizia Berdini, una donna di 31 anni diretta a Farigi con il marito in viaggio di nozze. In seguito a questo tragico evento vennero numerati tutti i cavalcavia presenti sulle strade autostrade italiane. Inizialmente tre dei fratelli Furlan ed il cugino Bertocco furono condannati a 27 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario. Successivamente all'inchiesta si aggiunsero anche il quarto fratello, Gabriele Furlan, La Bezzaro e Roberto Siringo, che furono tutti e tre assolti. I tre fratelli Furlan e il cugino Bertocco scontarono gli arresti domiciliari fino a luglio 2009, quando vennero definitivamente liberati. Lungo l'autostrada del Tomo, al chilometro 102,7, tra gli svincoli di Poghera e Casteggio Casetismo, è presente un pannello informativo che sovrasta l'autostrada ed indica la presenza del 45esimo parallelo. Data la struttura raggera del sistema delle strade provinciali a Brescia, l'autostrada A21 RAC, un'idea tangenziale esterna, servendo ai comuni di Azzanomella, Capriano Le Colle, e a questo proposito spero che Sofia La Bresciana stia guardando questo video, Flero, Poncarale, Borgosatollo, Montichiari e Castenedolo. La tangenziale ovest di Milano è stata agitata da Alda Merini nella sua poesia tangenziale dell'Ovest. Fino a qualche anno fa, il tratto abruzzese dell'autostrada 14 presentava i garderei galaterrani in legno lungo le tratte non in viadotto. Nei pressi di Mammola, la strada statale 682 Ionio Tirreno è invariante rispetto al percorso originario a caso del ritrovamento di reperti archeologici durante gli scavi. Lungo la strada statale 318 Vardival Fabrica, tra le gallerie Picchiarella e Casa Castalda, è in costruzione un nuovo svincolo, la cui rampa di uscita nella direzione di Ancona risulta essere già parzialmente costruita. Con i suoi 250 km, la strada statale 3B Stiberina è la superstrada più lunga d'Italia. Il primato le verrà strappato dalla strada statale 106 Ionica al completamento dei lavori di raddoppio. L'autostrada 14 è stata citata da Ligabue nella sua canzone, Urlando contro il cielo. Sull'autostrada 6 venne aperto nel 1972 un tratto di carreggiata sud tra Carmagnola e l'area servizio Rio Colorea Ovest, utilizzato come pista di prova dalla Fiat. L'autostrada A32 è l'unica autostrada italiana a carattere extraurbano ad avere le uscite numerate. Nonostante la segnaletica della progressiva chilometrica non presenti alcuna differenza, la carreggiata sud dell'autostrada 7 risulta essere lunga 5 km in più rispetto alla nord. Sul viadotto del passo dell'autostrada 10 in direzione Genova viene erroneamente segnalato il confine tra Francia e Italia, quando questo invece si trova a 250 metri prima all'interno della galleria Cima Girata. Il casello di Feglino sull'autostrada 10 è il più piccolo casello italiano, con una sola pista in entrata ed una sola pista in uscita. Inoltre è l'unico svincolo parziale dell'autostrada, avendo l'uscita solo in direzione 20 miglia e l'entrata solo in direzione Genova. I primi due chilometri dell'autostrada 7, che collegano il chilometro 0 con Piazza Maggi, non sono identificati tramite numeri ma con le lettere A e B. La strada statale 19 delle Calabrie prende il nome dall'antica divisione della regione, in Calabria Citeriore e Calabria Ulteriore. L'autostrada 35 ha delle caratteristiche costruttive di incidentalità che permetterebbero di viaggiare anche a 140 km orari. La Galleria Nazano dell'autostrada 1 è stata allargata con un metodo che è consentito il mantenimento delle due corsie. Il tratto appellinico dell'autostrada 1, aperto il 3 dicembre 1960, è stata la prima autostrada a doppia carreggiata realizzata in montagna. Tutte le rampe di accesso alla vecchia autostrada 3, Napoli-Salerno, presentano il segnale di stop. Fino a marzo 2008 lo svincolo per l'inate Viale Forgalini della tangenzalezza di Milano, che tra l'altro ho fatto vedere nello scorso video, presentava delle rampe di uscita sulla sinistra, che poi vennero smantellate e sostituite con delle comunissime rampe di uscita a destra. In origine era previsto un prolungamento dell'A14 fino a Sibari. Le piazzole di sosta sulla carreggiata sud del tratto panoramico dell'A3 sono caratterizzate dalle classiche mattonelle in ceramica vietrese. Milano è la città che presenta il sistema italiano di tangenziali più esteso. Infatti A50, A51, A52 e A58 insieme sono lunghe 106 km. Lungo il tratto appellinico dell'autostrada A16 la neve cade improvvisa e copiosa e non è raro che in condizioni critiche venga imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Baiano. Con i suoi 1000 km la strada statale A16 Adriatica è la strada più lunga d'Italia. Lungo l'autostrada 24 sono in corso dei lavori di ammodernamento dei viadotti con criteri antisismici. Lungo l'autostrada 1 la leggendaria Curva Fanfani nei pressi di Arezzo è stata voluta dal presidente del Consiglio del 1963 a Vintore Fanfani che durante la contesa tra le province di Sena ed Arezzo per il passaggio dell'autostrada decise di tracciare questa curva sulla carta per avvicinare il tracciato alla sua patria, la città di Arezzo. Negli anni 50 e 60 era ad uso comune costruire le strade a tre corsie ad unica carreggiata di cui la corsia centrale è utilizzata promiscuamente per i sorpassi. Tra queste strade vi figurano anche le autostrade A6 e A10 ed alcune varianti alle strade statali. Dagli anni 80 questa tipologia costruttiva venne abbandonata a causa della sua elevata pericolosità e dagli anni 80 non esistono più strade di questo genere. Nonostante la segnaletica di colore verde, la superstrada pedemontana Veneta è stata classificata come strada extraurbana principale per avere più flessibilità in fase di costruzione. Inoltre è l'unica superstrada italiana a pedaggio. Il grande raccordo anulare di Roma preso il suo nome nel 1946 dal cognome del direttore generale di ANAS di allora, Eugenio Gra. I lavori per la costruzione dell'autostrada 31 sono stati rallentati a causa delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia in merito all'abbandono degli scarti di lavorazione all'interno delle coltivazioni vicine all'autostrada, inquinando così i canali di irrigazione tramite sversamento di crono. I sospetti sono partiti dopo la morte di un cane di due anni di età che aveva bevuto dell'acqua in un fosso nelle vicinanze dell'autostrada. Alcune foto scattate nel 2010 mostrano dei possibili scarti di fonderia. Dalle analisi è emerso che cianuro, arsenico e piombo presenti nel terreno fossero abbondantemente superiori ai limiti previsti dalla legge. Nel 2012 la Commissione Europea venne informata del rischio di rifiuti tossici in autostrada. Infatti nel tratto tra Vicenza e Rovigo vi sono dei rifiuti tossici sotto il manto stradale che metterebbero a rischio la salute pubblica. Ciò scaturisce dal raggiramento di alcune norme secondo le quali materiali di scavo contaminati non costituiscono alcun rifiuto. L'anno successivo sono state indagate a 27 persone per i reati di falso ideologico e traffitto illecito di rifiuti in forma organizzata. Secondo la direzione distrettore antimafia di Venezia, lungo il tratto tra Agugliaro e Longare sono stati sversati illegalmente 150.000 metri cubi di rifiuti tossici. L'autostrada 22 è la prima autostrada italiana dotata di aree di servizio con pompe di rifornimento ad idrogeno. Solo dal 2001, con il completamento dell'A6, tutte le autostrade italiane sono a doppia carreggiata. Ragazzi il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se si lasciate un mi piace per sostenere il canale e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Bella!